Un'automobile utilizzata come ariete di sfondamento, una vetrina completamente sventrata e ladri penetrati all'interno per un colpo mirato a tre motociclette da motocross, poi caricate su un camioncino e relativa fuga. Questa l'estrema sintesi del colpo andato a bersaglio questa notte da ladri professionisti allo Yamaha Store DNG della Interquartieri di Pesaro. Un colpo notturno completamente ripreso dalle telecamere di videosorveglianza che hanno visto l'esatta dinamica di questo illecito sul quale sono intervenuti prontamente gestori delle negozioni, così come polizia e carabinieri. Polizia e carabinieri che sono già sulle tracce di un reato che ci viene riassunto nei dettagli da Paride Felici, responsabile del Yamaha Store. Questa notte all'incirca verso le 2-3 quarti della notte, con un'auto, abbiamo visto dalle telecamere, hanno sfondato la vetrina e poi hanno caricato tre moto in un camioncino. Moto di che genere e di che valore? Tre moto da cross, perché sono moto da competizione che non hanno targhe, quindi secondo noi è una cosa mirata. Hanno puntato proprio tre moto che tra l'altro erano anche lontane dalla vetrina, quindi è una cosa programmata, commissionata probabilmente. Che valore commerciale hanno? 30.000 euro, circa di valore. 30.000 euro a cui aggiungiamo danni, immagino, rilevanti. Sì, danni rilevanti. Quello è il problema grosso, perché hanno sfondato la vetrina, adesso per ricostruirla, risistemare tutto e si vorrà tempo e soldi. L'auto utilizzata come una rete è una Mercedes Serie A, dunque anche un'auto di pregio che tra l'altro risulterebbe rubata ad osimo. Tre o quattro invece i malviventi che sarebbero coinvolti nel blitz alla Yamaha. Loro hanno sfondato, c'era l'altro che aspettava, ha aperto il camion, moto leggera, quindi da cross che pesano 100 kg, facili da caricare. Ringraziamo polizia, carabinieri e vigili del fuoco che sono intervenuti prontamente, però purtroppo loro sono scappati velocemente, insomma, era una cosa organizzata. Va detto che tutto il negozio è completamente assicurato, sia per quello che riguarda il furto, sia per quello che riguarda gli ingenti danneggiamenti alla struttura. Fatto sta che i disagi sono naturalmente notevoli e servirà un po' di tempo per rimettere la situazione nella normalità. Grazie a tutti.